1-1 da Alessandria tra Alessandria e Fermana con Tommaso Busattolo. Tommaso, primo tempo di grande lavoro sport da parte tua, poi nella ripresa la prima palla pulita l'hai subito buttata dentro. Quali le tue sensazioni per questo primo gol in maglia a Fermana? Intanto buonasera a tutti, sono molto contento per aver fatto il mio primo gol qui a Fermo e spero di poterne fare altri, però sono più contento perché ha aiutato la squadra a portare a casa un punto importante e quindi avanti così su questa strada. Si rimette subito al lavoro per preparare un derby come quello di sabato con la Vispensaro, sicuramente importante e ben sentito dalla tifoseria. Sicuramente sabato abbiamo una partita importantissima per il nostro cammino, adesso andiamo a casa, ci riposiamo e da domani si pensa subito alla partita di sabato con il mister per lavorare sui dettagli e fare un'ottima prestazione di lei. La dedica per il gol? La dedico alla mia famiglia, mia mamma, mio papà, i miei fratelli che sono sempre con me e mi sostengono sempre. Grazie mille. Grazie a tutti.